bell'altro ragazze benedico su noi sfido non so perchè sarei gestando l'intro qua su questo schermato ma io volevo dire che cerco un partner per fare il torneo a coppia che c'è ogni sera non ogni sera ogni giorno cerco un partner e chi vuole partecipare e mi scrive il suo dito forte qua sotto nei commenti e poi sceglierò chi la farà con me bisogna avere il 2FA per farla e basta se volete partecipare scrivetelo qua sotto nei commenti scrivete il vostro id di apic o mandatemi una richiesta ok ciao ragazzi